Ciao! Ciao! Che cosa prepariamo? La granola! All right, baby! Come si dice la granola in inglese? Granola! Oh, granola! Granola è la parola inglese. Queste noci vengono dalle Ande. Sai che sono delle montagne altissime? Quest'anno in Sud America. Che cosa vuol dire questo l'Italia? Che aiuti le persone a fare un grosso lavoro. Com'è? Wow, molto ben fatto. Cosa stai tagliando, Rumi? Eh? Mandorle! Mandorle! Wow! Non ne ho uno? Sì! Cosa stiamo facendo? La granola! Wow! Vai! Benita! Stai da vuoi? Ok! Ci arrivi? Vuoi che ti avvicino il barattolo? No, grazie. Ne posso scegliere uno? Certo. Ecco! Ok, vai, Rumi! Yeee! Mettiamo adesso. I semi di ziasone. Esattamente. I semi di sesamo. Yes! Zucca. Semi di zucca. E i semi di sesamo. Cosa mettiamo adesso? Lucero di canna a panina. Lucero di canna integrale. Quanto? Ok. Mestuliamo bene, bene. Dov'è l'olio? L'olio si attacca ai semi. Ah, tutto quello che c'è qua. La la ciotola. Ok. Poi leccare questo. Luvetta per dopo? Sì! Perché non la mettiamo nel forno, Luvetta? Perché è buono coppia. Semi! Bene, Rumi, molto bene. Sì! Pronta la granola? E come ti sembra questa granola? Buona! La mangiamo domani a colazione? No, dopo cena. Dopo cena? Sì! Sì! Wow, guarda che bello che è? Mmm! Mmm! Che buono! no come è? questo? sì